L'amministrazione di Capaccio Pestum punta alla riqualificazione di un punto storico della città come Piazza Santini. Piazza Santini negli ultimi anni ha assunto il ruolo di importante polo economico e sociale nella città capaccese e nella piazza si svolgono attività di vario genere ma anche manifestazioni cittadine e iniziative sociali. A tal fine l'amministrazione Alfieri è decisa nel voler valorizzare e riqualificare un'area centrale e nevralgica per la città. Amministrazione che però non ha scelto di operare in modo canonico ma ha deciso di indire un concorso di idee al fine di ricevere una pluralità di proposte improntate alla qualità e all'innovazione che possano orientare le scelte future di intervento. Inoltre l'ente comunale ha pronto anche un progetto per la realizzazione di una piazza in località Santa Venere. Tale iniziativa è stata pensata al fine di riscoprire i vecchi valori dell'aggregazione sociale e finalizzata di incrementare gli spazi urbani nell'ottica di una crescita del contesto territoriale di Capaccio Pesto.